Massimo Bitonci, dopo gli oltre 3.000 emendamenti presentati sulla legge di stabilità, PD e PDL non trovano una quadra. Addirittura adesso sembra che cambi la proposta sulla tassazione. Lo diciamo ormai da più di un mese che si parla sempre delle stesse tasse. Siamo passati dall'ICI, dall'imposta comunale sugli immobili, poi all'IMU, l'imposta municipale unica, poi la TASI e adesso compare la TUC, questa tassazione unica comunale. In realtà è stato certificato proprio ieri quando tutti hanno detto che la base imponibile è la stessa. È la stessa dell'ICI, dell'IMU, della TASI e adesso della TUC. Si parla sempre di un'imposta sugli immobili, sulle rendite catastali, a cui si applica una percentuale che può essere più o meno alta. Adesso poi si vorrebbe reintrodurre anche il sistema delle detrazioni e quindi si ritorna in maniera così estremamente chiara all'imposta comunale sugli immobili. Noi lo diciamo da sempre, bastava dare il via libera ai sindaci, quindi con la possibilità di aumentare e diminuire le detrazioni si poteva tranquillamente abbattere la tassazione sulla prima casa senza creare tutti questi problemi ai cittadini che a novembre di quest'anno non sanno ancora se pagheranno o non pagheranno la seconda rata dell'IMU e mettendo in estrema difficoltà i comuni perché i comuni si trovano ad approvare, hanno approvato dei bilanci in cui i dati sono completamente sfasati. Il fondo unico trasferito ai comuni attualmente dà dei dati in cui molte amministrazioni virtuose dovranno restituire dei soldi allo Stato e questo a novembre di quest'anno è un'operazione che ha dell'incredibile che metterà in difficoltà molte amministrazioni locali e molti cittadini. C'è poi la proposta di agevolare, aiutare i redditi sotto i 12.000 euro. Voi come vedete questa proposta? Ma questa di questa soglia di no tax area è una proposta che noi pensiamo sia positiva abbiamo anche noi degli emendamenti per limitare la tassazione dell'IRPEF sulle fasce basse di reddito io penso che però sia importante che questa limitazione, questo taglio della tassazione vada effettivamente alle famiglie più povere. Non possiamo pensare che un taglio della tassazione vada a favorire quelli che sono anche i redditi più alti. Quindi io spero che ci sia una convergenza da parte di tutti. Come abbiamo detto anche in passato, se si aiutano le famiglie più deboli le famiglie magari monoreddito con più figli si fa anche una politica economica di aumento dei consumi perché le famiglie monoreddito, le famiglie che hanno redditi molto bassi come i pensionati che hanno la pensione minima sociale consumano interamente la propria fonte di reddito e questa va tutta in consumi. Quindi sarebbe anche una politica per andare a colpire la diminuzione dei consumi che c'è stata da un anno a questa parte. Ricordiamo che nel 2012 la diminuzione dei consumi alimentari è stata del 10% e la stessa cosa a novembre di quest'anno abbiamo raggiunto quasi l'8% di ulteriore diminuzione dei consumi alimentari e penso che questo sia un indice molto negativo che va combattuto con un aumento del reddito e una diminuzione della tassazione soprattutto per le fasce più deboli.